Ciao a tutti ragazzi, Davide oggi per voi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo degli esoneri di Zenga e Iachini e delle scelte che fanno i presidenti quando le cose non funzionano benissimo. Zenga è stato esonerato con la Sampdoria decima in classifica, un campionato comunque secondo me dignitoso, il decimo posto è l'habitat della Samp. Ma il problema secondo me era che la Samp finora ha dimostrato un gioco approssimativo e poi Zenga non aveva un feeling con i tifosi. Se poi aggiungiamo che la Samp è uscita subito dall'Europa League perdendo malamente in casa, l'esonero è comprensibile. Anche se secondo me se Zenga fosse rimasto, se la Samp non l'avesse esonerato non sarebbe stato un problema. Adesso c'è la caccia e il sostituto, prima si parlava di Montella, adesso la società sembra più virata su Guidolin, Del Neri, un po' Corini, staremo a vedere cosa succeda. Poi Palermo, Zamparini ha esonerato Iachini e ha ripreso Ballardini, un esonero secondo me inspiegabile. Iachini ha riportato il Palermo in A dopo un anno di purgatorio in B. Stava facendo bene in questo campione, ha fatto bene l'anno scorso, finora non stava neanche andando male. L'ultima domenica ha vinto, sinceramente io non capisco la scelta di esonerare questo allenatore. Zamparini non c'è nuovo a queste follie, 5 anni fa ha mandato via Deglio Rossi dopo che ha perso 7-0 in casa dell'Udinese, col Palermo che era sesto in classifica, manco penultimo, sesto in classifica e che fino alla domenica prima giocava bene. Non lo so, scelte che veramente ogni tanto si lasciano a desiderare, scelte incomprensibili. Io sono dell'idea che non è che si può sempre dare la colpa all'allenatore. Bisogna anche ragionare sulle scelte che si fanno, bisogna chiamare in causa chi fa le squadre. Chi le fa le squadre sono i presidenti, se poi le squadre che costruiscono sono scarse, sono loro quelli che le hanno fatti. Quindi si assumono un po' le responsabilità e non diano contro a quelli che le allenano. Per esempio, l'anno scorso Giulini ha esonerato Zeman a dicembre, poi ha ripetuto più volte che è stato l'errore più grande della sua vita. Innanzitutto, uno, Zeman si sa che non dà sempre subito i suoi frutti, i primi mesi, il primo anno sono un periodo di transizione, bisogna dargli tempo. Poi, quando ormai i giocatori hanno assimilato il suo credo, le squadre esplodono e danno spettacolo. Nel periodo precedente, invece, magari faticano un più un po', però comunque fanno intravedere già qualcosa. E poi, soprattutto, a Zeman li hanno depennato i giocatori più importanti, li hanno tolto Piniglia, li hanno tolto Astoria, li hanno tolti Barbo. Quindi non è che fosse così necessario mandarlo via, anzi, andava tenuto. Poi, tornando a Zamparini, mi viene in mente tre anni fa, quando con Iachini, quando con Sannino, scusate, li aveva sempre depennato la squadra, perché li ha tolto Cassani, Balzaretti, Migliaccio e anche qualcun altro, e l'ha esonerato dopo tre giornate, poi ne ha presi altre due o tre, poi l'ha ripreso alla fine. Non è che possano essere sempre gli allenatori quelli che pagano, i presidenti devono anche un po' assumersi le responsabilità di fare una buona squadra. Non è che la colpa è sempre di quelli che allena. Qua in Italia, invece, siamo a questi livelli, se vinci tre partite sei un genio, se ne perdi tre sei un pirla. Comunque, secondo me c'è da prendere a modello una società che è l'Udinese, che cinque anni fa, quando la squadra aveva iniziato male perdendo le prime quattro partite, non ha esonerato Widolin, l'ha confermato, e l'Udinese alla fine è anche arrivato ai preliminari di Champions. Oppure, l'anno scorso, sempre l'Udinese, non ha esonerato Stramaccioni per l'intero campionato, anche se l'Udinese l'anno scorso giocava abbastanza male, ha passato anche delle quattro o cinque domeniche senza vincere, però Stramaccioni è sempre stato confermato. Poi a fine campionato l'hanno mandato via, però l'Udinese aveva comunque raggiunto la salvezza. Mentre, nelle quattro o cinque partite che l'Udinese non avrebbe vinto, un altro presidente, un'altra società, avrebbe esonerato l'allenatore. Se un allenatore non funziona, proprio va tutto male, allora si esoneriamolo. Se invece va malino, però vedi che se ancora lì l'obiettivo lo stai raggiungendo, tenete, che lo si tenga, che lì si faccia almeno terminare la stagione, perché poi cambiare anche gli allenatori in corso non è mai una cosa positiva. E magari tra i giocatori che devono assimilare idee diverse c'è anche il rischio che secondo me vadano in confusione. E voi come la pensate? Siete anche voi d'accordo con me? Meno esoneri si guardi un po' più il mercato, perché poi tanto è vero che non siamo in una situazione brillantissima, ma non siamo neanche al verde. Se i soldi ci sono per pagare gli allenatori, perché non ci devono essere per prendere i giocatori? Io vi invito a lasciare un commento, a mettere un like al video, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook. Se avete già fatto entrambi, siete i numeri uno. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Grazie.